Il premio Nobel Amati Hassan e i due politici italiani Enrico Giovannini ed Enrico Letta e il giornalista Gianni Riotta al Diego Fabri per parlare di buon vivere. Un pomeriggio pieno di domande sul futuro ma senza dimenticare il passato, centro della discussione la diminuzione delle disuguaglianze in una nazione dove non vi è l'aumento della crescita, partendo dalla considerazione di Amati Hassan sull'India dove lo stato di benessere della popolazione è maggiore di quello cinese, benché la Cina abbia un'economia in crescita, evidenziando così come il PIL non influenzi direttamente il benessere della popolazione ma che questo viene maggiormente influenzato dai servizi e dall'ambiente. In un mondo dove tutto cambia continuamente il tema principale è la resilienza, la capacità di un popolo di adattarsi e sopravvivere ai cambiamenti e ai momenti di crisi. E l'unico modo per formare le persone in questo senso è investire sul capitale umano per riuscire a formare attraverso la scuola un popolo capace, consapevole e conscio di vivere nel 2000 e non nel 900 e che abbia la capacità di rinvestire su se stesso in un paese destinato a cambiare lavori e mestieri ciclicamente. Non conta solo il PIL nel 2000, contano le persone, la loro educazione e la loro riadattabilità, consapevoli che le disuguaglianze non sono un effetto obbligato. Infine Enrico Letta ha parlato di Europa. Se a quei tavoli a quali sono seduti i giganti Stati Uniti, Cina, India, che sono giganti oggi, fra dieci anni lo saranno ancora di più, allora o noi ci sediamo a quei tavoli come Europa oppure singoli paesi europei, saremo semplicemente dei... L'alternativa sarà nel futuro tra essere come europei rule setter o rule taker, quelli che insieme ad altri le regole le fanno oppure quelli semplicemente che applicano le regole fatte da altri.